Ciao ragazzi, io sono Tommaso Branchi e in questo video vi farò vedere come creare una collezione di NFT come questa senza che voi dobbiate saper nulla della programmazione. Infatti il codice che dovrete utilizzare è già pronto all'uso e le uniche modifiche che dovete fare ve le guiderò io. Prima di iniziare vi chiedo un like e di controllare la mia collezione di NFT che potete trovare qui sotto in descrizione. Adesso possiamo iniziare. Sempre in descrizione trovate il link per accedere a questa pagina di GitHub. Una volta entrati dovrete scaricare la cartella di file qui, andare dove l'avete scaricata ed estrarre la cartella. Per poterla aprire però vi servirà un editor di codice. Io vi consiglio di utilizzare lo stesso che ho utilizzato io, Visual Studio Code. Prima di aprire Visual Studio Code vi do un consiglio che vedo non viene mai dato in rete e che porta spesso a problemi nella creazione degli NFT, ovvero Visual Studio Code deve essere aperto con i permessi di amministratore. Per essere sicuri di essere entrati con i permessi di amministratore basta leggerlo qui sopra. Adesso andate in File, Apri cartella, entrate in questa cartella e selezionate quella che c'è all'interno. Ora sarete arrivati in questa situazione. Per prima cosa andate su Terminale, Nuovo terminale e adesso dovremo inserire dei comandi. Il primo è npm install. Fatelo partire e per arrivare al termine ci metterà un po' di tempo. A volte può metterci anche interi minuti. Come potete vedere qui mi dà 5 vulnerabilità di cui 3 moderate e 2 molto alte. Questo però non è un problema perché ho già appurato più volte creando i miei NFT che comunque tutto alla fine procede per il meglio. Adesso bisogna inserire un altro comando npm install truffle-p. Anche questo come per il primo può richiedere fino a qualche minuto. Eccomi tornato. In questo caso ci ha messo molto tempo e comunque ha trovato delle vulnerabilità ma noi sorvoliamo e andiamo avanti. Adesso digitando il comando node index.js vediamo come sono state create 5 immagini. Adesso andando in build images vediamo come ci sono 5 immagini e in json ci sono 5 file. In realtà sono 6 perché questo è un contenitore di tutti quelli che verranno sotto ma in realtà quelli che ci interessano sono questi 5. Se li apriamo vediamo come ci sono queste immagini che sono state prese mischiando queste altre immagini. Ok il tutto è molto bello ma immagino che voi vogliate sapere come creare i vostri NFT. Il tutto è molto semplice. Basta recarsi nella cartella estratta precedentemente, aprirla, andare in layers e qui cambiare queste cartelle con le cartelle contenenti le vostre immagini. Una volta inserite le cartelle contenenti i layer creati da voi bisogna tornare su visual studio code in src in config e modificare i nomi delle cartelle. Ad esempio se la vostra cartella si chiama face qui dovrete scrivere face. Il tutto in ordine gerarchico quindi il primo layer che sarà aggiunto sarà il background. Poi ci sarà face, poi eye color, poi iris, poi shine, successivamente bottom lead e dopo ancora top lead. Per poter assegnare una rarità agli NFT che volete creare così che loro abbiano più o meno valore basterà tornare nella cartella di prima, scegliere un layer e rinominare il file con un asterisco e un numero finale. Come potete vedere in questo caso gli NFT sono stati pensati per avere questo giallo nella maggior parte dei casi quindi come valore comune e poi un rosso, un viola, un rosa, un verde o un ciano con solo l'1% di possibilità. Come potete vedere infatti di queste 5 immagini 3 hanno l'iride giallo e solamente 2 lo hanno diverso. Allo stesso modo se io ora su green mettessi 10 e su yellow mettessi 1 facessi ripartire il programma, vediamo come la maggior parte in questo caso 4 su 5 sono verdi e solo una è rossa. Ovviamente però ho lasciato che venissero create 5 immagini per motivi tempistici del video. Tutto quello che dovete fare se volete crearne 10.000 sarà sostituire questo 5 con 10.000. Una volta fatte le modifiche usate le combinazioni di tasti ctrl s per salvare oppure andate in file e salva. Ok sempre per motivi tempistici non possiamo fare 10.000 ma vi faccio vedere come lasciandone 10 ctrl s per salvare e facendo ripartire il programma ne saranno create 10 invece di 5. Il prossimo passo che è quello fondamentale per caricarli tutti su un marketplace come OpenSea è quello di fare in modo con un programma di caricare tutti questi file automaticamente e ad ogni file png dovrà essere associato il suo corrispondente in json. Quindi per l'1.png lo vediamo così dovrà essere associato l'1.json che dirà di che colore è il background, di che colore è l'iride, di che colore è la palpebra inferiore e quella superiore e così via per tutti gli altri tratti. La prima parte di questo video termina qui. Lasciate like, iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina per non perdervi anche la seconda. Io vi saluto e alla prossima. Ciao! Grazie!